buongiorno e ben ritrovati a voi tutti dal vostro nicole da lucia parliamo in questo ultimo video per il momento poi in attesa delle altre partite susseguiranno gli altri video parliamo di dolino sambdore come vedete dall'immagine di copertina proprio questo bel ragazzone gaston ramirez grazie alla sua doppietta ha ribaltato la partita di ieri sera in anticipo alle ore 18 allo stadio grande dolino battendo appunto i torinesi per 3 a 1 nonostante il vantaggio iniziale dei padroni di casa converte al 55 sul secondo tempo poi proprio ramirez prima al 70esimo poi al 75esimo è rigore penalty del grandissimo fabione quagliarello al 70 rovesimo da segnalare l'espulsione per il torino di izz per trattenuta comunque una vittoria della samp quotata bene dai bookmaker 3 25 3 40 3 43 3 20 per quanto concerne la classifica al momento la sampdoria è sedicesima 23 punti praticamente è a più sette dalla zona retrocessione che l'ultimo posto retrocessione occupato dal genova quota 16 la samp ottiene la sua seconda vittoria nelle ultime cinque gare e la settimana prossima affronterà in casa la fiorentina che viene da due sconfitte di fila nelle ultime cinque partite mentre il torino che alla sua quarta sconfitta di fila affronterà settimana prossima il milan a san siro che è decima 32 punti ovviamente in attesa dal derby bene chiudo il collegamento ribadendo che la sampdoria anche grazie a un super ramirez ribalta il vantaggio iniziale del bologno dal torino con verdi e vince allo stadio grande torino per 3 a 1 ci vediamo dopo per gli altri video ciao ciao